Grazie a tutti. Danieri, mi piacciono in bicicletta, muoversi in bicicletta. Ecco qua, c'è un'altra componenza di questo gruppo. Grazie a tutti. Per fare del car sharing, del bici sharing, cioè in ogni paese, in ogni città, avrei a disposizione delle bici da poter utilizzare e muoversi in bici o a piedi. L'auto è il maggiore degli inquinanti, insieme alle caldaie al gas. Siccome è un inquinante di autobus, qui un altro componente. Un gruppo di dieci persone. Ecco in diretta, cassaforma quick, un TK, utilizzando un Nokia E51, sim dati della trenza. C'è una buona connessione anche da Empoli. Avevamo già provato, non c'erano i dubbi. Però facciamo dei test per capire se è una connessione reale. che è una connessione reale. Questa è una connessione reale. Questa è una connessione reale. Questa è una connessione reale. Grazie a tutti. Sì, questa è la mobilità qui da Empoli, gruppo di tedeschi che si muovono in bici attraversano la Toscana.